E noi abbiamo seguito un progetto dedicato al benessere educativo dei bambini in un quartiere della periferia di Roma. Laura Corsi. Siamo a Torbella Monaca, una delle periferie più degradate della capitale e questi sono i bambini del progetto Torbella Infanzia, ospitato nei locali della parrocchia. Qui è come se fosse una scuola materna per bambini che non hanno avuto accesso al sistema scolastico ordinario. Bambini che provengono da situazioni familiari difficili e che qui trovano un ambiente dove seguire un percorso educativo e vivere la propria socialità in mezzo ad altri coetanei. Il progetto è finanziato da Coni Bambini Impresa Sociale, grazie al Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Abbiamo sostenuto 355 progetti in tutta Italia fino ad oggi e i minori che saranno coinvolti sono 480 mila. Progetti come Torbella Infanzia contribuiscono a un corretto sviluppo di questi bambini e sono un investimento sul loro futuro. Arrivano chiusi in se stessi, incapaci di relazionarsi con gli altri bambini e con gli adulti in modo sano. Escono da qui che hanno riconquistato il sorriso, la voglia di giocare, hanno conquistato di nuovo il loro diritto a essere bambini.